Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi andiamo avanti con la nostra serie Imperatores, la serie con cui cerchiamo di raccontare la storia dell'impero romano attraverso i suoi imperatori, ma lo facciamo attraverso un imperatore, come dire, abbastanza discusso, soprattutto che mi ha portato a chiedermi se inserirlo all'interno di questa serie. Giovanni Primicerio, questo è il suo nome infatti, non è esattamente un imperatore riconosciuto da tutti, perché nonostante abbia governato in effetti alcuni anni, nonostante fosse stato riconosciuto dal senato romano, in realtà non è mai stato riconosciuto dal suo collega orientale, cioè Teodosio II, e questo porta alcuni storici a ritenerlo un imperatore legittimo, altri a ritenerlo semplicemente uno dei tanti usurpatori. Una serie di considerazioni, anche legate al fatto che il suo successore Valentiniano regnerà tantissimi anni, e quindi ci sarà già tantissimo da dire in quella puntata su di lui, mi hanno portato però a decidere di raccontarlo lo stesso, di raccontarvi questo imperatore, ovviamente sconosciuto dal regno breve, anche perché durante il suo regno iniziò ad affermarsi un uomo che, nelle prossime puntate, diventerà uno dei protagonisti della nostra storia, non un imperatore, ma un generale, cioè Flavio Ezio. Quindi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, e ovviamente cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a parlare di Giovanni Primicerio. Questa puntata è in realtà la storia di tre uomini, non di uno solo, questo vorrei mettervelo in chiaro subito, e il primo di questi tre uomini non è l'imperatore, ma è bensì il suo magister militum, cioè Flavio Castino. Ora, di Castino non sappiamo nulla, non sappiamo quando è nato, non sappiamo dove sia nato, sappiamo che verosimilmente era di famiglia nobile, che era romano, ma le informazioni finiscono qua. Secondo alcuni era stato un fedele di Costanzo, colui che aveva preso il potere dal 410 d.C., aveva affiancato Onorio come suo comandante, e che alla fine, proprio da Onorio, era stato nominato suo co-Augusto. Quando nel 421, pochi mesi dopo essere diventato Augusto, Costanzo III morì, a prenderne il posto come comandante delle truppe romane, fu proprio Flavio Castino, che nel 421 ricevette la carica di magister militum, e soprattutto ricevette dall'imperatore Onorio, e dalla sua corte, perché non dimentichiamoci che Onorio di potere ne aveva poco o nulla, ricevette un compito molto importante, cioè quello di completare l'opera che era stata di Costanzo, che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, e cacciare gli ultimi barbari dall'impero. Se ricordate, avevamo raccontato di come, approfittando del caos seguente alle invasioni in Italia, alcune popolazioni barbare, gli alani, i vandali e i suebi, avessero attraversato il Limes Renano, e si fossero riversati prima in Gallia e poi in Iberia. Abbiamo raccontato come una parte di questi popoli barbari fosse stata sconfitta dai visigoti, principalmente gli alani, e di come invece altri avessero deciso di stanziarsi. Ora, delle due popolazioni rimaste, i suebi e i vandali, quelle indubbiamente più forti erano i vandali, che per di più si erano andate a stanziare in una delle parti più ricche di tutta la provincia di Beria, cioè l'Abetica, corrispondente alla parte meridionale, grosso modo all'attuale Andalusia, una terra che ovviamente l'impero voleva a tutti i costi recuperare. Per questo Castino ricevette l'ordine di andare ad eliminare i vandali, e per poterlo fare divennero fornite delle truppe, ovviamente, gli venne associato un comandante in seconda, un altro romano, tal Bonifacio, che ricevette il comando di una parte delle truppe romane, e gli venne anche dato il permesso, e soprattutto l'ordine, una volta attraversata la Gallia, passando vicino all'Aquitania, terra che era stata concessa ai Goti, di prendere con sé anche l'esercito Goto, che nell'accordo che aveva fatto con Roma doveva accompagnare le truppe romane nella guerra contro gli altri barbari, e poi condurre la campagna verso sud. Fin dall'inizio però Castino aveva capito che qualcosa in tutta questa campagna non funzionava, che c'era qualcosa di poco chiaro e poco organizzato, e se ne rese conto ancora di più quando, ancora prima di arrivare in Iberia, una parte del suo esercito se ne andò, perché Bonifacio, suo comandante in seconda, ad un certo punto, in seguito ad alcuni screzzi, decise di abbandonarlo, prese le sue truppe, tornò in Italia, o secondo altre fonti non se n'era mai andato, perché questi screzzi avvennero prima ancora che fossero usciti dall'Italia, e invece di dirigersi verso l'Iberia, decise di dirigersi verso l'Africa, di cui poi prenderà il controllo di qui a qualche anno. Nonostante questo, le forze romane unite a quelle del sovrano dei Visigoti, Teodorico, che nel 419 era succeduto a Vaglia, qualcuno dice che ne fosse il figlio, qualcuno dice che in realtà fosse il figlio illegittimo addirittura di Alarico, secondo altre fonti non era nessuna delle due, non era nemmeno della stessa famiglia, ma capite che in questo caso le fonti sono molto discordanti. Ad ogni modo, dopo aver raccolto le forze dei Goti, di re Teodorico si era diretto verso sud, e inizialmente la campagna era andata benissimo, aveva sconfitto le forze vandale, aveva riconquistato una parte del territorio, era giunto addirittura a mettere sotto assedio il loro sovrano, che all'epoca vantava il titolo di re dei vandali, re degli alani, popolo che, ricordiamolo, era stato quasi annientato completamente dalle forze dei Visigoti, e che si erano andati proprio a rifugiare sotto i vandali in Betica. Ad un certo punto però successe qualcosa, cosa non lo sappiamo chiaramente, ma Castino decise di togliere l'assedio e di affrontare le forze vandale direttamente sul campo di battaglia. È possibile che un esercito di rinforzo fosse arrivato e per non farsi circondare avesse preso questa decisione. Fatto sta che al momento di dare battaglia, i Goti decisero di tradirlo. Secondo alcune fonti, semplicemente se ne andarono lasciando l'esercito romano in grave inferiorità numerica, secondo altre, addirittura mentre la battaglia infuriava, i Goti decisero di unirsi ai vandali, prendere alle spalle i romani e partecipare alla loro sconfitta. Castino fu così sconfitto, riuscì a sopravvivere, riuscì a rifugiarsi nel nord, vicino a Tarragona, e ovviamente fu costretto a vedere la sua campagna andare completamente in frantumi con i vandali, che forti di questa vittoria, ancora di più accentuarono il potere della Spagna meridionale nelle loro mani. La cosa peggiore è che quando tornò a Ravenna scoprì che grazie agli intrallazzi della corte i Goti che lo avevano tradito non erano stati minimamente puniti, né nessuno pensava di doverlo fare, anzi, erano tornati in Aquitania a riprendersi il controllo del loro territorio. Una volta a corte però, Castino riuscì a capire chi, secondo lui, aveva agito alle sue spalle e chi lo aveva fatto non era nient'altro che Galla Placidia. Di Galla Placidia abbiamo parlato meglio nella scorsa puntata, ma giusto per ricordarvi, Galla Placidia era la figlia di Teodosio, Teodosio il Grande, imperatore, nipote tramite la madre Galla di Valentiniano, quindi, insomma, aveva unito le ultime due grandi dinastie di imperatori, ed era andata in sposa a Costanzo, da cui aveva avuto due figli, Onoria, una femmina, e soprattutto Valentiniano, che era nato poco prima che il padre morisse e aveva poco più di tre anni all'epoca. Bene, Galla Placidia, questa era l'accusa che era stata lanciata da Castino, aveva utilizzato le sue connessioni con i Goti, perché non dimentichiamocelo, prima di sposare Costanzo era stata anche sposa del re Goto a Taulfo, e quindi probabilmente qualche connessione lo aveva, per organizzare questa bella trappola, per cercare di fare in modo che Castino venisse eliminato, ma perché lo aveva fatto? Per motivazioni politiche. Galla Placidia contava sul fatto che Valentiniano, il figlio, potesse diventare imperatore dopo la morte di Onorio, che di figli non ne aveva e non ne avrebbe mai avuti, ma temeva che un generale diventato così famoso grazie alla vittoria contro i vandali, per di più romano, potesse invece essere nominato imperatore al suo posto e magari decidere ad un certo punto di eliminare un concorrente. Questo magheggio, che sia avvenuto o che non sia avvenuto non lo sappiamo, non funzionò, perché Castino una volta tornato alla corte di Ravenna riuscì a convincere Onorio della sua buona fede, a tal punto che Onorio decise addirittura di allontanare la stessa Galla Placidia e il figlio spedendoli dal nipote Teodosio secondo, che intanto era cresciuto, aveva finalmente preso in mano le redini del potere a Costantinopoli. Onorio non regnerà più per molto, di lì a poco morirà dopo un lungo e francamente poco glorioso regno lasciando una grossa domanda chi dovesse succedergli. Una risposta inizialmente da Teodosio secondo non venne. Per alcuni mesi Teodosio sembrò tentennare, decidere di non nominare nessuno, anzi addirittura giunse a nominare Castino come console, dandogli sostanzialmente il potere sull'Occidente senza però nominarlo suo co-Augusto. Secondo alcuni storici la motivazione era molto semplice, Teodosio stava aspettando per capire se potesse in qualche modo riunire nuovamente tutto l'impero nelle sue mani così come aveva fatto il nonno magari per un tempo più lungo e chissà se le cose fossero andate in questo senso come sarebbe stata la storia. Ad un certo punto però Castino iniziò a capire che Teodosio stava progressivamente cambiando idea e lo capì da una serie di piccoli fattori a cominciare dal fatto che gli veniva informato che Galla Placidia a corte a corte di Teodosio II guadagnava sempre più posizioni ma soprattutto venne informato che Bonifacio quel generale che lo aveva abbandonato nella campagna con i vandali e che si trovava in Africa era stato nominato Comes Afriche quindi a capo proprio di quella provincia così importante per la sua produzione di grano che sfamava buona parte dell'impero d'Occidente e dato che Bonifacio si sapeva essere un fedele di Galla Placidia il timore era che ben presto ad essere nominato nuovo Augusto sarebbe stato proprio Valentignano e che a guidarlo nei suoi primi anni di regno dato che Valentignano il futuro Valentignano III aveva poco più di tre anni sarebbe stata proprio la madre a questo punto Castino decise però di anticipare i tempi si recò dal Senato a Roma che diciamo lo grosso potere non ne aveva più ma almeno dal punto di vista storico poteva vantarne e propose di scegliere un nuovo imperatore perché non propose se stesso come imperatore dopo tutto era romano non lo sappiamo sono state avanzate tutta una serie di teorie diciamo che quella più credibile era che voleva avere le mani libere dal punto di vista militare cioè aveva in mente di continuare a gestire il potere comandando gli aspetti militari senza essere bloccato da tutte le pastoglie burocratiche che avrebbero accerchiato letteralmente un imperatore decise quindi di far nominare un membro della corte un membro abbastanza in vista anche se fino a quel momento non aveva ricoperto cariche particolarmente importanti cui nome era Giovanni inutile dire che di questo Giovanni non sappiamo nulla era romano e fino qua non ci piove ma non sappiamo quando sia nato non sappiamo dove fosse nato non sappiamo cosa avesse fatto fino a quel momento sappiamo però che era il primicerio cioè il primo il più importante dei notai della corte e da qui appunto il suo soprannome di Giovanni primicerio la sua figura pare che riscuotesse abbastanza successo tra il senato romano che forse temeva di essere messo nuovamente da parte rispetto a quello di Costantinopoli temeva quasi un controllo a distanza da parte di Teodosio nei confronti di Galla Placidia o forse temeva semplicemente le truppe di Castino questo non lo sappiamo fatto sta che il senato decise di approvare questa nomina e di nominare Giovanni come nuovo imperatore quando divenne imperatore cercò fin da subito due cose la prima di accattivarsi la simpatia della maggior parte della popolazione dell'Occidente e per farlo cercò di agire anche sugli aspetti religiosi a cominciare dal riconoscimento di tutte le religioni compresa quella pagana che era stata messa da parte secondo alcune fonti avrebbe addirittura fatto riportare per l'ennesima volta nelle puntate lo avete visto andare e venire penso già almeno dieci volte l'altare della vittoria in senato come a dire che rispettava anche il paganesimo e tutto quello che rappresentava questo però non è non ha la concorranza di tutte le fonti secondo alcuni alcune non si spinse fino a questo punto e l'altare comunque anche se fosse stato riportato nuovamente nel senato nella curia romana sarebbe stato in questo caso per l'ultima volta da qui in poi non lo vedremo più comparire anzi probabilmente andò distrutto perché non sappiamo quale sia stata la sua fine il secondo punto è che ovviamente sapendo benissimo di non poter reggere uno scontro contro l'Oriente cercò inizialmente un accordo con la corte di Costantinopoli proponendosi ovviamente di riconoscere Teodosio come imperatore di riconoscerlo come imperatore principale dell'impero ricordatevi sempre che quasi sempre sui due augusti ce n'era uno principale e uno secondario quasi a rimandare alla vecchia la vecchia organizzazione che era stata fatta ai tempi di Diocleziano in cui lui era l'imperatore principale lo Iovis e invece Massimiano era l'imperatore secondario cioè l'Herculeo insomma una posizione quasi di padre e figlio ma tutte queste proposte caddero senza che nessuno le raccogliesse anzi tutt'altro Teodosio decise di forzare la mano nominò ufficialmente Valentiniano Valentiniano III a questo punto come Augusto per l'Occidente e decise di rimandare lui la madre e soprattutto un bel esercito di accompagnamento verso l'Italia per cercare di riprendere il loro trono a peggiorare la situazione praticamente buona parte dell'Occidente si ribellò si ribellarono le Gallie con addirittura gli militari di Fidella Giovanni Primicerio che vennero assediati nella stessa Arles e la Gallia che si dichiarò a favore dell'imperatore Valentiniano si ribellò ovviamente Bonifacio in Africa che tagliò come prima cosa i rifornimenti di grano per l'Italia cosa che aveva già messo in crisi più di un esercito in passato cosa forse ancora peggiore senza ribellarsi però non si schierarono i goti i goti di Teodorico i quali se ne rimasero tranquilli in Aquitania sostanzialmente aspettando di vedere quale delle due fazioni vincesse sapendo che entrambe le fazioni avrebbero avuto bisogno di loro a Giovanni che intanto si chiuse a Ravenna preparandosi ad un eventuale assedio rimaneva però una carta da giocare e quella carta da giocare era un suo giovane generale chiamato Flavio Ezio finalmente almeno di Ezio che l'abbiamo detto è il terzo protagonista della nostra storia sappiamo qualcosa perché era nato più o meno nel 390 d.C. a Durostorum nell'attuale Bulgaria era figlio di un generale romano che era però di origine scita o secondo alcuni scita con una isola o secondo altre fonti goto ma insomma comunque non era romano e invece di una donna romana esattamente come il padre aveva fatto carriera nell'esercito principalmente nell'esercito d'Occidente e aveva avuto una scuola militare molto particolare perché per tre anni era stato mandato come ostaggio presso la corte di Alarico re dei Goti e quindi aveva imparato da lui l'arte militare e una volta tornato alla corte di Ravenna dopo un breve periodo e dopo che Alarico lo aveva anche richiesto nuovamente come ostaggio ma questa volta gli era stato negato era stato mandato addirittura come ostaggio presso la corte di Rua re degli Unni e anche qui ovviamente oltre a intessere una serie di relazioni diplomatiche aveva imparato l'arte militare degli Unni stessi Ezio aveva il fama di essere uno dei migliori giovani generali dell'Occidente ma soprattutto grazie alle sue connessioni con gli Unni avrebbe potuto trovare quell'esercito di cui Giovanni Primicerio aveva un grandissimo bisogno e così fece mentre Giovanni si chiudeva a Ravenna Flavio Ezio partì si diresse verso il regno degli Unni cercando di tornare indietro con un esercito per il suo imperatore intanto però siamo arrivati alla prima metà del 425 dopo Cristo l'esercito dell'Oriente si è preparato e si è messo in marcia o meglio si è diviso in due parti e si è messo in marcia lungo due strade diverse perché da una parte il generale che avrebbe dovuto comandare l'esercito cioè Ardaburio un generale che si era fatto una certa nomea combattendo contro i Sasani negli anni precedenti ne parleremo meglio nella prossima puntata prese la fanteria dell'esercito la caricò sulla flotta e risalì l'Adriatico puntando rapidamente verso Ravenna nel contempo il figlio che invece comandava la cavalleria risaliva lungo la costa fino a raggiungere via terra Ravenna Ardaburio ovviamente sarebbe stato il primo ad arrivare l'obiettivo era di anticipare al massimo l'assedio per evitare che potessero arrivare eserciti di rinforzo ma purtroppo per lui quando la flotta arrivò vicino a Ravenna venne sbattuta contro la riva da una una tempesta che fece affondare tutte le navi tranne due su una di queste due navi sopravvissute c'era proprio Ardaburio che però quando tocco terra venne catturato dalle forze di Giovanni che lo portò a Ravenna ora forse la scelta migliore a questo punto sarebbe stata quella di eliminare questo generale per intanto tagliare la testa a quella spedizione che doveva deporlo ma Giovanni si comportò forse come facevano i nobili dell'epoca i patrizi dell'epoca e decise di tenerlo presso di sé anzi cercò di utilizzarlo proprio dimostrandogli volergli salvare la vita come una rappresentazione del fatto che lui non cercasse lo scontro con l'Oriente ma cercasse invece un accordo la decisione però fu sbagliatissima perché il generale che peraltro era di origine Alana il generale stando presso la corte di Ravenna e godendo anche di una certa libertà di movimento iniziò a prendere contatti con molti dei comandanti fedeli a Giovanni gli presentò la situazione fece loro presente quanto poco territorio il loro imperatore controllasse e gli fece presente che se avessero deciso di tradirlo e passare al fianco dell'imperatore legittimo dal suo punto di vista cioè Valentiniano avrebbero avuto salva la vita onori e ricchezze la cosa funzionò perché quando dopo qualche settimana il figlio arrivò sotto le mura di Ravenna con la sua cavalleria quei comandanti quei soldati che lui aveva convinto passare dalla loro parte aprirono le porte ai soldati di Teodosio II permisero loro di entrare all'interno della città e di catturare lo stesso Giovanni e così quell'uomo che forse aveva cercato un accordo fu invece catturato fu portato ad Aquileia qui venne mutilato gli venne mozzata una mano venne fatto sfilare attraverso la città fino al circo su un asino e una volta lì venne strangolato probabilmente siamo a giugno o luglio del 425 d.C. il primo dei tre protagonisti è quindi morto il secondo protagonista avrà una fine abbastanza sconosciuta secondo alcune fonti Casti non morì negli stessi giorni secondo la maggior parte invece non venne ucciso non è chiaro il perché ma venne mandato in esilio e di lui si perdono comunque del tutto le tracce quindi scompare dalla nostra storia rimane il terzo protagonista Flavio Ezio che quando Giovanni è già morto finalmente arriva con l'esercito di rinforzo che si è procurato nel minor tempo possibile ma non abbastanza velocemente per salvargli la vita i comandanti dell'Oriente si trovano qui nella difficile situazione di avere un esercito potenzialmente molto forte perché gli Unni all'epoca erano il terrore letteralmente dell'Occidente l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti anche se non erano ancora arrivati a portare le loro razzie tutti sapevano quanto fossero dei guerrieri formidabili ebbene si trovarono di fronte ad un esercito così potente non sapendo cosa farne fortunatamente però non vi fu lo scontro perché Ezio capì che non aveva molto senso combattere per un imperatore ormai morto e decise di sfruttare la situazione per guadagnare posizioni alla corte e così mentre il piccolo Valentiniano di 4 anni si sedeva su un trono troppo grande per lui e su cui ovviamente non aveva nessun potere mentre la madre Galla Placidia a fianco a lui si preparava a diventare la vera signora dell'impero romano d'Occidente Flavio Ezio diventava Magister Militum per Gallias acquisendo un grosso potere dal punto di vista militare e politico accettando che gli Unni venissero semplicemente pagati e se ne tornassero indietro e probabilmente a loro andò benissimo essere pagati per non combattere sembrava essere una cosa meravigliosa e in questo modo si venne a creare quel sistema che avrebbe retto l'Occidente per tantissimi anni e Flavio Ezio di via 25 anni avrebbe combattuto gli Unni ai campi catalaunici sconfiggendo Attila ma questa è un'altra storia che racconteremo nelle prossime puntate con questo direi che è tutto la prossima puntata ci riporterà invece in Oriente perché andremo a raccontare proprio la storia di Teodosio II qualcuno mi ha chiesto come decido l'ordine in questo periodo lo decido in maniera molto semplice cerco di avere ovviamente un senso ma soprattutto di solito racconto prima gli imperatori che muoiono prima quindi dato che Teodosio II morirà prima di Valentignano il prossimo che andremo a raccontare sarà proprio Teodosio II e ci sarà parecchio da raccontare le prossime puntate credo saranno abbastanza dense però poi con gli ultimi imperatori d'occidente le cose si concentreranno maggiormente ma vedremo poi in futuro prima di chiudere però come sempre fatemi fare un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti oggi in particolare il mio ringraziamento va ad Alessandro Alfano grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao